Presidente, a nome dell'Associazione Nazionale dei Giovani Amministrativisti e del Comitato Territoriale di Bari, le esprimo il più vivo ringraziamento per la disponibilità che ha manifestato nel prevedere anche quest'anno un nostro intervento nella cerimonia di inaugurazione. Questo appuntamento solenne è un momento augurale, ma anche un'occasione in cui condividere alcune brevi riflessioni sull'anno giudiziario trascorso e proporre nuovi obiettivi per migliorare l'offerta e la qualità del sistema di giustizia amministrativa. Sono state numerose quest'anno le occasioni di confronto sul crescente e decisivo ruolo della nostra giurisdizione, in un contesto in cui, come segnalato anche dal Presidente del Consiglio di Stato nella sua relazione inaugurale, si agitano questioni di equilibrio tra i poteri dello Stato, emergono nuove istanze di tutela dai pubblici poteri. Un contesto in cui lo sviluppo di un diritto giurisprudenziale, pur riducendo gli effetti della crisi della legislazione, espone all'incertezza insita nella varietà delle decisioni giudiziarie. In questo contesto il ruolo della giustizia amministrativa della nostra giurisdizione acquista una nuova centralità, diventando un presidio indispensabile di civiltà giuridica e amministrativa. I temi da sempre esplorati e discussi in questa sede sul volume del contenzioso, sui costi di accesso alla giustizia e sulla loro non prevedibile moltiplicazione con i motivi aggiunti permangono, e in alcuni casi basti pensare alle controversie che involgono diritti fondamentali, necessitano di risposte sollecite. D'altra parte, Presidente, riteniamo doveroso oggi rivolgere lo sguardo altrove, nella prospettiva della conservazione, del rafforzamento e della promozione della giurisdizione amministrativa. Con la nostra associazione stiamo dedicando ampia attenzione e studio al tema della giurisdizione, per promuovere dibattiti e proposte anche nelle sedi legislative, secondo due direttrici, maggiore chiarezza nella disciplina del riparto di giurisdizione e maggiore e più ragionevole spazio di cognizione da riservare al giudice amministrativo. Solo a titolo esemplificativo citiamo alcune controversie del pubblico impiego e tutte quelle controversie relative ai contratti pubblici di stretta attinenza al rapporto pubblicistico sotteso, che necessitano certamente di una rivisitazione. Si tratta spesso di controversie nelle quali solo attraverso la sensibilità della nostra giurisdizione, le caratteristiche del nostro sistema processuale e l'ampiezza degli strumenti cautelari atipici, si può garantire effettività e pienezza di tutela. In altre parole, Presidente, noi riteniamo che ad una sola voce con tutti gli interlocutori e le associazioni rappresentative che animano questo foro, sia arrivato il momento di accogliere una sfida di senso per la tutela e la promozione della giurisdizione amministrativa. Una giurisdizione in grado di evolversi e di interrogarsi a fondo sulle sfide del futuro. A riguardo penso al grande tema dell'applicazione dell'intelligenza artificiale all'azione amministrativa, già oggetto delle prime sentenze e qui a Bari sfondo di un grande dibattito pubblico. Pensiamo ancora al dialogo verticale con la Corte di Giustizia, ormai un pilastro del nostro sistema ordinario di tutele. Quest'anno, attraverso un'ordinanza di rinvio pregiudiziale, già oggetto di studio e approfondimento in tutta Italia, il nostro TAR ha devoluto alla Corte di Giustizia la verifica di compatibilità di un aspetto fondamentale degli strumenti di prevenzione della corruzione, ovvero dell'interdittiva antimafia. Un tema che vede un acceso confronto nella giurisdizione, trattandosi di poteri pubblici che, se non correttamente esercitati entro canoni di ragionevolezza, proporzionalità e giusto procedimento, rischiano di compromettere diritti fondamentali. L'evoluzione della nostra giurisdizione nel senso della effettività, attraverso un controllo più penetrante della discrezionalità amministrativa, chiude il cerchio della tutela e chiama maggiori responsabilità, avvocati e magistrati, nella risposta ad una domanda di giustizia piena, compiuta e non di mero ritorno al riesame amministrativo. Ci sono poi questioni più vicine al nostro operare quotidiano e con cui siamo chiamati a confrontarci ogni giorno. Riepilogo per titoli le principali sollecitazioni riguardanti in particolar modo il processo telematico, in riferimento al quale nelle sedi istituzionali sono state poste alcune importanti questioni, tra cui l'omogeneità nelle prassi dei tar sulle copie di cortesia, la verifica della perdurante necessità dell'autentica in caso di procura conferita digitalmente, la ragionevole proposta di prevedere, come nel giudizio civile, la comunicazione PEC di sistema a seguito del deposito di documenti e memorie a tutte le parti costituite. Si tratta di questioni sulle quali rinnoviamo l'invito al confronto. Siamo convinti in tal senso che il colloquio con gli organi esponenziali della magistratura costituisca strumento necessario per il miglior funzionamento della giustizia amministrativa e le manifestiamo, Presidente, la nostra disponibilità per ogni ulteriore iniziativa come il Liberum Forum che vorrà assumere nel senso della maggiore efficienza dell'organizzazione delle attività giudiziali. Le siamo grati, Presidente, dello spazio che ha voluto dedicarci e con quest'animo manifestiamo il nostro apprezzamento e la vicinanza a lei e a tutti i magistrati per proseguire una continuazione di confronto, analisi e proposta in questo nuovo anno giudiziario. Auguri e grazie. Grazie Avvocato Procacci